Col senno del poi, senza alimentare rimpianti, però già l'andata con Lecce e Roma, il Milan, come prestazioni avrebbe meritato di più in termini di punti. Però è un caso se magari facendo comunque delle buone prestazioni in un periodo del campionato i punti non arrivano, in un altro periodo come questo invece sì? No, non credo che sia un caso. Se non siamo riusciti, malgrado delle buone prestazioni, in passato ottenere risultati si vede che qualche mancanza l'abbiamo avuto ed è verissimo però che eravamo solamente all'inizio del nostro percorso. Credo che certi risultati, soprattutto una crescita della squadra, per avere una crescita della squadra ci vuole tanto tempo, non sono sufficienti due settimane di lavoro. Anche perché comunque avevano i giocatori delle abitudini diverse, abitudini parlo proprio a riferimento dal punto di vista tattico, quindi c'è voluto del tempo, del lavoro. Per portare avanti le nostre idee e il nostro lavoro. Però secondo me non è questo momento di guardarci indietro assolutamente perché abbiamo questo finale di campionato che ci vedrà adesso veramente in un tour de force importante, con 10 partite a disposizione, 30 punti a disposizione. E non possiamo permetterci di perdere energia a fare altri tipi di ragionamento se non quelli di vivere questo momento con grande attenzione, con grande intensità fino alla fine per cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Ecco mister, lo spirito della domanda non è assolutamente quello della tabella. Le tabelle sono impossibili in generale nel calcio figurarsi quando si gioca ogni tre giorni. Provo a chiederle però, nelle 10 partite di campionato del 2020 il Milan ha fatto 20 punti, il Milan sta tenendo una media di due punti a partita. Se riuscissimo a tenerla fino alla fine del campionato potrebbe significare Europa? Beh, due punti a partita è sicuramente un'ottima media, questo sicuramente. Anche perché quando abbiamo ripreso il campionato mancavano 12 partite alla fine e abbiamo ripreso il campionato da dove abbiamo cominciato noi. Nell'andata abbiamo fatto 12 partite e 15 punti, con delle buone prestazioni ma non con dei risultati eccezionali. E quindi bisogna fare di più e cercare di fare due punti a partita sarebbe sicuramente un buon risultato. Poi se saranno sufficienti o meno, ripeto, è difficilissimo fare previsioni in questo finale di campionato. Perché non si è mai giocato in questo periodo, perché non si è mai giocato così tanto, non si è mai giocato così spesso. Quindi noi abbiamo solo un'ambizione e solo un obiettivo, pensare di partita in partita e affrontare anche la partita di domani. Soprattutto la partita di domani con grande convinzione, con grande concentrazione. Perché sarà una partita complicata, sarà una partita difficile, con un avversario che è vero che viene da due sconfitte, ma due sconfitte di misura che potevano essere senz'altro invece aver ottenuto altri risultati positivi, perché le prestazioni ci sono state. Quindi ci aspetta una partita complicata da affrontare con grande determinazione. Ecco, mister, al riguardo, pensa possa essere utile, produttiva, costruttiva, non voglio dire fondamentale, la panchina anche a Ferrara contro la Spal. Noi all'andata abbiamo avuto due gol dalla panchina, Piontek in Milan-Lecce e Suso in Milan-Spal. Invece, ultimamente, nel 2020, in particolare, Rebic col Brescia e l'Udinese, le Aua Lecce, il contributo di Paketais a Lemekers con la Roma, dalla panchina sta arrivando molto. È un aspetto che si tiene stretto? Sì, assolutamente. Io ho sempre creduto, ho sempre pensato che, chiaramente, l'importante è schierare la formazione migliore all'inizio, ma che i cambi possono essere determinanti in qualsiasi partita. e adesso lo saranno ancora di più. Già il fatto di avere cinque sostituzioni ci dà possibilità di ampie scelte e giocare nei tre giorni è impensabile, è impensabile che tutti gli undici possano giocare sempre, possano mantenere alto il loro livello di prestazione mentale e fisica senza anche incorrere a qualche rischio di infortuna. Quindi i cambi saranno sempre più determinanti e noi dobbiamo assolutamente insistere su quello che abbiamo messo in campo nelle ultime gare. Sky. Prima Mauro parlava della media di due punti a partita. Da gennaio, però, non nel periodo precedente, avete giocato 15 partite, comprese la Coppa Italia. La media è altissima, quasi due punti a partita, soprattutto 26 gol fatti e quasi la metà subiti. C'è solo 14. Io le chiedo, anche vedendo quello che stiamo vedendo noi, almeno, fisicamente, è il miglior momento della sua squadra da quando lei è al Mila? Cioè, nel disegnino, probabilmente questo è il miglior Milan che ha avuto finora, sia psicologicamente che atleticamente? Io credo che stiamo bene, ma che abbiamo avuto dei momenti dove siamo stati bene anche in passato, dove le prestazioni ci hanno dato sicuramente delle belle risposte. Però il calcio è così imprevedibile, così imponderabile, che assolutamente dobbiamo mantenere alta la concentrazione e la determinazione. E se stiamo bene, nel calcio non sai mai quanto possa durare la tua condizione. Quindi devi cercare di sfruttare questo momento. Noi dobbiamo stare attaccati al nostro momento, attaccati alla nostra classifica, che non è ancora quello che vogliamo. Siamo stati soddisfatti, sono stato soddisfatto della prestazione con la Roma, della vittoria, ma non abbiamo fatto niente. Dobbiamo adesso dimostrare di essere una squadra che sta bene, una squadra che ci crede, una squadra che ha delle buone qualità, una squadra che può far bene, che può giocarsela contro chiunque e che può anche vincere contro chiunque. Noi giornalisti spesso ci divertiamo a creare dei titoli sia in negativo che in positivo. Ieri un po' tutti dicevamo che questo Milan non è più ibra dipendente, poi noi abbiamo detto che non enfatizziamo troppo questa cosa. Era per chiederle, visto il settembre scorso, se è pronto ma non è pronto per la panchina. Come sta se ci fa un aggiornamento sulle condizioni fisiche di ibra? Perché psicologicamente credo che ci sia, sta sempre. Psicologicamente sta bene, sta rispondendo bene, come sempre, perché lui è un leone, è spinto sempre da grandissime motivazioni, da grandissima determinazione. Ieri ha fatto sicuramente un buonissimo allenamento con i ritmi giusti, con i suoi compagni che non sono stati in campo con la Roma. Se oggi, se stasera ripeterà lo stesso allenamento e se mi darà l'ok, potrebbe essere convocabile per la partita di domani sera. L'ultimo, almeno di questo piccolo blocco, le chiedo, lei prima parlava dei cambi, sono importanti, impensabili a giocare con queste temperature, una volta ogni tre giorni. È pensabile che domani, già dall'inizio, possa cambiare qualcosa? Sempre parliamo da giornalisti, c'è stata una bellissima reazione di Salemaker, Pacheta ha fatto molto bene, possono essere delle soluzioni già all'inizio per dare spazio a tutti, anche perché fisicamente avete una marcia diversa dagli altri, almeno in queste prime tre partite. Io credo che sarà normale, sarà normale comunque fare dei cambi. Non posso pensare che scendano in campo sempre gli undici giocatori. Siamo stati bravi a sfruttare le nostre tre partite iniziali ben cadenzate, nel senso che noi siamo stati costretti a giocare nei tre giorni e abbiamo sfruttato questo anche nei confronti dei nostri avversari, perché sicuramente abbiamo dimostrato di stare meglio sia del Lecce sia della Roma. Però adesso comincerà anche per noi il periodo complicato, è un periodo difficile, ci vediamo in campo spesso, quindi abituiamoci e soprattutto i ragazzi si devono abituare che qualche cambio ci sarà di partita in partita, perché è normale che la priorità è la squadra e la priorità è avere in campo una squadra mentalmente e fisicamente pronta, quindi qualche cambio ci potrà essere. Mauro, poi torniamo da te. Sì, prima dicevo dei due punti a partita a partire da Cagliari, perché c'era stata la gara con la Sampdoria, diciamo un nuovo periodo, probabilmente per noi in questa stagione è iniziato da Cagliari. Mister, volevo chiederle questo, spesso, non soltanto dal momento del suo arrivo in poi, insomma è un dibattito che fa parte del Milan, diciamo degli ultimi due o tre anni questo, lo spogliatoio, i leader, io le voglio chiedere questo, viste anche le ultime partite, non solo le ultime partite, anche per colpi, per disponibilità, per responsabilità che si prende. A Cancia Lanoglu può diventare, sta diventando e è diventato uno dei leader di questo Milan, anche grazie alle innovazioni che ha portato lei nel sistema di gioco? Io credo innanzitutto e soprattutto che a Cancia sia un grandissimo giocatore e lo sto spronando e stimolando perché secondo me ha la qualità per fare quello che sta facendo, cioè per diventare un giocatore determinato, anche determinante nel risultato finale. Ha tutto, ha tutto per fare bene, perché a Cancia si sa muovere, a Cane corre, è generoso, ha qualità, ha conclusione, quindi secondo me è arrivato il momento per lui veramente di diventare un top, non di essere solamente un ottimo giocatore e c'è uno step che è significativo, essere un ottimo giocatore e diventare un top, ma lui lo è, per me lo è, lo è in tutto quello che fa. Poi per quanto riguarda essere leader o non leader, io non credo che sia l'allenatore che debba riconoscere queste caratteristiche nel giocatore, ma sono soprattutto il compagno. Per me a Cane è sia leader tecnico sia il leader morale, ma soprattutto lo devono riconoscere e penso che questo stia succedendo soprattutto da parte dei compagni. Mister, con le partite a porte chiuse, con il silenzio dello stadio, ci si accorge commentando le gare di tanti particolari che magari durante le partite normali non cogliamo. Non ha dovuto per le situazioni della partita, anche per la nostra bravura, fare particolari interventi in porta, fra i pali Gigio Donnarumma contro la Roma, però non è stato in silenzio un momento. Ha spronato, ha incitato, ha commentato, ha detto. È il suo modo, è un modo importante quello che ha Gigio di vivere le partite, di vivere il Milan, di trasmettere cose ai compagni di squadra? Assolutamente sì, io credo che faccia parte del ruolo. Il portiere è quello che vede meglio la situazione, è quello che deve tenere vivi, attenti, deve annusare il pericolo e quindi deve tenere pronto tutta la squadra. Gigio sta crescendo tanto in questo, è un aspetto sul quale sta lavorando, ma Gigio, non so se come ha detto Maldini è il miglior portiere del mondo, ma è sicuramente tra i primi due o tre portieri del mondo, quindi ha grandissima qualità e una qualità importante del portiere non sono solamente quelle tecniche, ma sono soprattutto quelle di attenzione, di tenere... Io ho fatto il difensore e so cosa vuol dire avere le spalle un portiere che ti sprona, che ti stimola, che ti fa stare bene in campo, che ti tiene vivo, piuttosto che avere un portiere alle spalle che non dice niente. E Gigio in questo è molto bravo e deve assolutamente continuare ed è una situazione sulla quale può ancora migliorare. Mister, nel corso degli anni credo di aver letto e capito che il modo di insegnare calcio che hanno in Belgio ai giovani sia molto particolare. Vengono istruiti ed educati ad affrontare le situazioni della partita, piuttosto che a rinchiudersi in un ruolo. Mi sembra di vedere questa sfumatura in Sale Makers. Lui va in campo e affronta la partita più che rinchiudersi, diciamo, nello spazio del suo ruolo. È una sensazione che anche lei... A me piace molto questa mentalità e mi piacerebbe che soprattutto nei settori giovanili, professionistici, si andassi in quella direzione. Che giocatori devono sapere stare in campo. Non è così importante la specificità del ruolo, ma è importante riconoscere certe situazioni. Sale Makers ha queste capacità perché è un giocatore d'utile, ha giocato un po' in tutti i ruoli, in Belgio. È un giocatore molto dinamico, è un giocatore anche tecnico. Deve provare a essere un po' meno frenetico. Nelle scelte di gioco deve provare a essere più lucido, ma è un miglioramento che arriverà col tempo, visto la sua giovane età. Andiamo da Sky. Lei fatica sempre, forse anche in maniera giusta, a parlare dei singoli. Però una domanda la faccio in riferimento a Rebic, perché ha dei numeri straordinari. Con lei è esploso da esterno, da quarto, da attaccante. In realtà, quando quella partita a Cagliari giocò un minuto, un minuto e mezzo, chiudendo gli occhi, si aspettava di vivere poi tre, quattro mesi con questa intensità di questo ragazzo. L'altro giorno ero qua a Milanello, giorno libero, e si presenta. Cioè, ha un ritmo, una costanza mentale che sembra da grande giocatore. Tu hai ricordato giustamente quello spezzone di gara lì, che è stato lo spezzone di gara che mi ha convinto che Rebic potesse fare molto bene. Poi, prevedere che potesse essere un giocatore così determinante anche nella fase realizzativa e nei nostri risultati finali non era così facile. Però sicuramente Ante ci ha messo tanto del suo per ritagliarsi un posto. Sono molto contento delle sue prestazioni, sono molto contento del suo atteggiamento. Questa è la dimostrazione anche per tutti gli altri compagni di un giocatore che era stato utilizzato molto poco sia dal mio predecessore sia da me, che però non ha mollato, ha continuato a lavorare con disponibilità, con volontà e poi ha ottenuto dei risultati. Quindi questa è assolutamente la mentalità che deve accompagnare un giocatore che vuole avere e che deve avere ambizioni perché gioca in un grande club. A parte l'allenatore di un grande club, poi lei è anche una persona, un essere umano. Le chiedo, qual è il suo sentimento nei confronti, Mauro prima diceva che non si fanno tabelle, delle prossime quattro partite? È più la tensione di incontrare oltre la spalla la Juventus, la Lazio e il Napoli? O la curiosità? O magari adesso che state così bene andiamo, adesso mi sento più corazzato, mi sento più rispetto a prima? Credimi che io non sto assolutamente pensando alle prossime partite, ma che sono molto concentrato e dentro all'allenamento di stasera che sarà l'unico allenamento vero che potremo fare perché ieri in pratica abbiamo recuperato e oggi è l'unico allenamento di preparazione a partita di domani che è reputo molto difficile, molto complicata e quindi da affrontare nel miglior modo possibile. Poi penseremo alle altre, ma la nostra classifica, il nostro momento, le difficoltà del campionato, le difficoltà che ci riserverà la spalla non ci possono permettere di avere altri pensieri se non quelli di mettere in campo la miglior prestazione possibile domani sera.